Il concetto di macroeccumenismo in Pedro Casaldaliga lo possiamo ascrivere innanzitutto a una grande occasione di partecipazione popolare come è stata l'assemblea a Quito nel 1992 in occasione dei 500 anni della conquista scoperta dell'America dove in assemblea popolare appunto delle comunità dei cristiani latinoamericani lui stesso Don Pedro insieme con Maria Vigil propone e difende il titolo il tema coniando il neologismo va da sé di macroeccumenismo e intendendo con questo una partire a proposito dalla esperienza di base dall'esperienza vissuta dalle comunità dei credenti di latinoamerica della patria grande come amava chiamare e definire l'America Latina Don Pedro e raccoglie cioè un'esperienza che già c'è in atto di una ricerca religiosa spirituale quella delle comunità dei credenti nella patria grande appunto che come dire dice di Dio che è sempre più grande di tutte le nostre definizioni che appunto l'ecumenismo è più dell'ecumenismo questo spiegherebbe l'acronimo, l'acronimo no, il neologismo macroecumenismo e Dio sempre oltre tutte le nostre definizioni è una spiritualità macroecumenica secondo Don Pedro è quella per cui la nostra appartenenza è molto più grande che l'appartenenza ad una comunità, ad una chiesa, ad una religione l'appartenenza ad una comunità, ad una chiesa non esaurisce né esprime adeguatamente il senso di appartenenza maggiore al Dio sempre più grande appunto e questo è interessante scoprire che questa riflessione sul macroecumenismo che poi non è solo una riflessione è un nome dato ad un'esperienza ad un'esperienza religiosa spirituale come quella messa in campo appunto dalla gente di Latino America si coniuga insomma con una sensibilità, un'attenzione che in altri contesti del sud del mondo questo sto pensando soprattutto al mondo asiatico riflette insomma quando ad esempio proprio la spiritualità macroecumenica ricorda che essere religioso oggi e qui c'è una grande lezione anche per noi essere religioso oggi significa essere interreligiosi che cioè la mia spiritualità appunto beve al pozzo di più sorgenti, di più acqua insomma e arricchisce la sorgente da cui bevo sì le cosmovisioni poi con cui si incontra Don Pedro arrivando ricordiamolo nel 1968 quindi una stagione insomma molto sofferta dell'America Latina, del Brasilia in questo caso incontra appunto le comunità tra cui soprattutto nel contesto amazzonico in cui Don Pedro vivrà sempre, nei lunghi anni della sua permanenza San Felix d'Araguaia incontrerà soprattutto appunto il mondo indigeno no? per cui le cosmovisioni indigene saranno argomento non solo di vicinanza, di solidarietà ma di in qualche maniera che per Don Pedro è un'occasione di percorsi insomma di inculturazione tanto che con lui un altro tema insomma interessante del suo ministero se vogliamo provare a definire i grandi temi sarà senz'altro quello di un cristianesimo indigeno da questo punto di vista è oltre diciamo o più insomma dell'ecclesiogenesi di cui parlano i teologi della liberazione i teologi in generale in America Latina perché è un'altra logica di vivere il cristianesimo non solo una nuova genesi della chiesa, questo era anche lì il neologismo coniato ai teologi ma è anche un altro modo di intendere, un'altra logica, un'appropriazione di un'altra logica di vivere il cristianesimo come quella offerta dai popoli indigeni, dai popoli aborigeni e autoctoni del Mato Grosso che lui incontra e con i quali solidarizza fin da subito potremmo parlare di Casaldalga come profeta perché come dice la parola appunto il profeta non è il divinizatore del futuro è colui che a partire dal sogno di Dio, se possiamo usare un'espressione tipica di Don Pedro vive il presente e giudica il presente a partire dal sogno di futuro di Dio da questo punto di vista il profeta è con i piedi ben saldi nella terra rossa di Araguaia del Mato Grosso e lui esprime tutto il suo percorso esistenziale di credente prima di tutto e di vescovo anche si può descrivere in questa categoria insomma a volte evidentemente molto usata e soprattutto abusata ma per Don Pedro la parola profeta significa anche fedeltà, lunghi anni di fedeltà a una piccola comunità e senza per questo impedire di essere poi anche molto solidale con tutte le cause dei poveri e degli oppressi se pensiamo che Don Pedro poi sarà uno dei protagonisti, un cantore della vicenda nicaraguense vedendoci in essa soprattutto all'epoca, stiamo parlando degli anni 70-80 un'esperienza dove i cristiani sono partecipi insomma di un cambiamento rivoluzionario appunto della società dei costumi e delle strutture soprattutto di potere ma se dovesse dirlo con immagine anche qua usando parole di Don Pedro Don Pedro è quel profeta che proprio perché tale può dire un'espressione secondo me molto bella molto credente, molto profetica ci costerà la vita, questa è la sua frase ci costerà la vita ma noi risorgeremo sì, l'espressione non si può più vivere come se Dio degli altri non esistesse in realtà non sono parole di Don Pedro ma riassumono certamente uno stile credente uno stile di uomo oltretutto che la biografia e la parabola esistenziale di Don Pedro sicuramente rappresenta ed è un po' per ricollegarmi a un discorso precedente questo discorso nel suo caso della scoperta che Dio è arrivato prima delle caravelle e che quindi nei vissuti spirituali certamente che sia esistenziali di ricerca di senso insomma delle comunità indigene in questo caso poi Don Pedro conoscerà anche, avvicinerà e sarà prossimo anche alle comunità afro-brasiliane di discendenza africana, afrodiscendenti in quelle ricerche appunto spirituali è presente un volto di Dio che va scoperto e che arricchisce appunto la stessa professione di fede di Don Pedro e dei cristiani come lui e che quindi appunto non si può più vivere come se il Dio degli altri non esistesse e questo significa quello che ricordavamo che l'incontro con altre cosmovisioni con altre esperienze spirituali feconda, arricchisce, rende vera la propria ricerca di fede e questo sarà una testimonianza lungo tutta la vita di Don Pedro Don Pedro forse a proposito del fatto che di lui ricordiamo molte espressioni essendo poi tra l'altro un poeta, molte immagini insomma e una delle quali personalmente ancora oggi insomma per me è una non perché sia una frase fatta ma perché invece è una testimonia e tramanda una profonda verità era questa no? Di assoluto solo Dio e la fame, tutto il resto è relativo, questa è la sua frase e io credo che questa frase sia ricca di un messaggio molto bello che è saper relativizzare quello che noi crediamo essere assoluto ad esempio le mediazioni, anche le mediazioni di tipo teologico ecclesiale se vogliamo se di assoluto c'è solo Dio e la fame significa Dio e i bisogni delle persone e i bisogni dei poveri insomma questo è, la fame è l'immagine plastica di questo credo che questa fedeltà a questo assoluto appunto libera il credente, libera la persona dalla deriva a volte fondamentalista o appunto assolutista per cui che ci fa scambiare appunto quello che in realtà è relativo, molto relativo i nostri percorsi ecclesiali, pastorali, religiosi lo possono essere insomma e ci fa tenere al cuore della questione e la verifica anche del nostro credo della nostra professione di fede è sempre quella di capire quanto e come io osservo l'assoluto che è Dio, certo che sì, ma non in senso di fugamundi ma di presenza nel mondo perché poi è anche la fame, l'altro grande impegno assoluto del vivere del credente. Don Pedro sicuramente anche nel, sia per tratti biografici verosimilmente per disposizione anche caratteriale essendo spagnolo in origine per cui da questo punto di vista molto appassionato e passionale Don Pedro potremmo ascriverlo certamente ad una parte e per questo anche chi lo critica e allora e ancora oggi insomma appare essere una persona appunto schierata e magari inquadrabile dentro uno schema ideologico io credo che nel caso di Don Pedro invece la testimonianza sia di una persona che sceglie perché sì una parte ma perché pensa che quella sia la parte che gli spetta come discepolo di Gesù ed è la parte dei poveri, è la parte degli impoveriti come amava dire Don Pedro come amano dire ancora oggi insomma i credenti latinoamericani gente cioè non nata povera ma resa povera e se occorre scegliere una parte quella è la parte da cui guardare il mondo, quello diventa un luogo teologico e per Don Pedro non sarà mai una deriva diciamo così se possiamo definirla così o una appunto una scelta di tipo di carattere ideologico sarà sempre e soprattutto una scelta di carattere spirituale appunto ma non per questo dicevo prima e ripeto qui fuori dal mondo non per questo assente ai problemi della realtà e del contesto specifico in cui Don Pedro vive che sarà proprio la scuola da cui imparerà tutte queste cose perché Don Pedro non nasce imparato anche lui di formazione tradizionale se vogliamo dire così arrivando appunto nel 68 quindi appena post concilio verosimilmente la sua formazione è preconciliare ma arrivando lì arrivando in un contesto alla cui scuola appunto impara tutte queste altre cose io credo che di Don Pedro potremmo dire sicuramente che è un figlio del suo tempo e del resto come lui stesso ne era sicuramente consapevole al tempo stesso però la sua memoria ancora oggi è ancora molto calda essendo una scomparsa recente ma la sua memoria non è una memoria come posso dire che riflette un passato e basta certo il magistero viene da questi lunghi anni di vita tra l'altro scelta accanto ai poveri insieme con i poveri il suo stile insomma di credente di vescovo era appunto nella semplicità più alta possibile ma quello che volevo dire è che la sua memoria è una memoria generativa è una memoria per l'oggi e per il futuro e da questo punto di vista credo che se potremmo dire così al Don Pedro militante usiamo questa espressione pure alla quale Don Pedro tutto sommato non negherebbe insomma possiamo attribuire a questo suo aspetto militante una delle tante sue poesie quella in Odea Regan dove dice ti scomunicano con me i poeti, i bambini, i poveri della terra se ha questo lato militante sicuramente per questo ce lo fa essere un uomo di oggi e la sua essere una memoria generativa mi sembra molto bella anche l'altra immagine che lascia l'epitaffio, la più recente delle forse delle sue composizioni quando scrive è detta di scrivere questo per riposare io voglio solo questa croce di legno come pioggia e sole questi tre metri di terra e la resurrezione mi sembra che in questa Ode, in questo epitaffio finale meglio riposi diciamo così e traspari al tempo stesso tutta questa memoria appunto generativa della figura di Don Pedro che è sicuramente un uomo anche per noi oggi è una biografia esistenziale a cui guardare, da cui imparare grazie 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 grazie